E' stato vietato il fatto di fare assemblee pubbliche all'interno delle tendopoli. E come sarebbe a dire? Per fare un'assemblea pubblica bisognava chiedere al capocampo l'autorizzazione e spiegare anche se eravate del comune. E com'è possibile? E' possibile perché con i com la gestione dei campi c'è un responsabile, quindi militarizzato.